Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutte, un nuovo video ASMR, come state? Spero bene, allora innanzitutto volevo parlare un po' con voi, quindi un nuovo video, chiacchiericcio ASMR e vai, che bello ovviamente allora dunque, come vi va? Spero bene, e niente io vi ho messo questo microfonino, e volevo contentare tutti i miei iscritti che vedranno tanto per il po' che non faccio questo video ASMR secondo te, perché non farò questo video ASMR, però poi, ecco qua con prima cosa, oggi vi mostro la borsa per il mare, andate un secondo allora io ho la borsa per il mare, questa qui è il di bici ve l'ho già fatto vedere altre volte, ma questa volta ve la faccio vedere in versione ASMR ok? Allora, questa è la mia borsa aspetta un secondo questa qua è la mia borsa Summer Italia eccola qui, vedete? bellissimo, mi adoro, mi piace come si può dire? come si può dire? a bianche allora, a strisce rosa e bianche bellissimo, allora, vediamo cosa c'è dentro allora, la mia crema ha tante protezioni dentro la grande crema sensolare la sci vedete? sci molto buona sci scusate scusate, l'ho messo da fondo, ma pazienza vi abituerete questa è bici vedete? la protezione poi c'è un'altra che non so l'ho messo ma vabbè ecco l'ho trovata allora questa protezione di bici non questa è la scusate l'euro si fosse è costata 21,99 euro ma l'ho perso già da bel po' vedete? a bs ho ben accennato quindi ecco perchè sto facendo adesso questo video rosa 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 niente protezione 50 top tutto il tempo sono protezione 50 almeno credo aspettate un'altra della rosa è sempre ovviamente come vi dicevo protezione 50 vedete? molto buona molto molto professionale questa crema perchè non mi sono stenata oggi per fortuna mia non mi sono stenata e se posso seguire queste creme le dole perchè sono le mie creme preferite è vero sono molto costose ma ne vale spesa e di ottima resa queste creme qua queste sono top fenomenali a bs ogni tanto interrompo perchè devo mettere le cucine degli occhi miei poi come altra custodia quanto prodotto sto prelevando la mia custodia la custodia della lucio degli occhiali vedete? non si vede neanche però la metto così così si vede bene si e dentro c'è la pezzetta proprio dei miei occhialetti miei che sarebbero questi ma va vabbè comunque così e la mia questo degli occhiali che poi ci sono parte e poi come l'ultimo non cosa sanno questo portafoglio dentro ci metto le chiavi 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 dentro e veramente è top è molto comodo di cercare dentro e niente è poi tutta vuota vedete che vuota non c'è niente ora mi trovo tutto dentro perché ho paura di sparitarmi dentro e niente ora mi trovo tutto dentro e la rimetto da una parte e la metto qua così qua alla mezza aspettate un secondo e niente allora ho fatto una bella doccia dopo essere tornata al mare oggi e che dire ho fatto una bella doccia ho usato il mio balsamo della splendora il mio shampoo anche questo ho fatto le pelle saponate poi ho risciacolato il tutto vedete ho risciacolato il tutto mi sta facendo un massaggio un massaggio un massaggio un massaggio per farvi rilassare un po' anche a voi e niente quindi ho usato il mio solito bagno schiuma della mantovani molto 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 buono e poi ovviamente si dietro mi fate sempre clio make up clio make up vabbè non fate a caso io faccio una tutta struccata non lo mai vogliate ma sono stanchissima e non mi andavo a ritruccarmi vabbè niente mi truccherò la prossima volta magari farò un video di trucco ASMR che ne dite rome di trucco ASMR niente poi mi sono messo a poti l'astrizza bene i capelli i capelli che si fa della donca per il tuo i capelli e che so dell'acqua e poi mi sono lasciocate capelli tamponando li bene con lo giocamano tutti i capelli che ho e non ho usato la spazzola clio perchè non mi andava però mi sono pentinata bene sia sotto la duccia che fuori della duccia ho il mio solito olio l'olio l'olio per capelli molto buono il colore il bim l'oreal che è molto molto fenomenale e niente poi oggi vi ho trovato una bella spazzottina di questa qua termale fenomenale a me piace davanti questa qua termale non so se avete sentito il rumore dell'acqua che spruzziamo di questa questo iso scegliere di questa termale qua si vedete molto buono ha ha capelli rifrescanti no? non so se non potete capire già ho un po' di comodo voglio questi giorni provo a truccarmi con questo bronzer e con questo pennello a fare un combo con questi due, con queste due terre, con questo qua, con questo sugar e con questo bronzer della Essence, con questa rima di vostra signoria come la vostra, non so come si dice, vabbè col titolo qui, di quella, di quella, tra questo e questo contro non so come si dice, comunque ci siamo capiti e le mischio a questa e vediamo cosa esce fuori, ok, niente questo gelatore è troppo bello bellissimo, mi adoro questa, se mi riesci ad aprirla, ok ok, non riescivo ad aprirla, ma va per dettaglio, niente questa è la mia terra preferita si, va diventata quando sa di cocco, perchè ci sento del cocco dentro questa è la mia terra, voi direte, perchè ce la mostro così, perchè adoro per quanto non c'è, non ve la posso fare, no? però non sarebbe troppo bella adoro, fantastica un bronzer niente, per dirvi quanto mi piace te l'adoro ciao e poi devo ancora fare un video con questo aspettate se lo trovo con questo correttore qui della ringel ringel, scusate e no, vabbè non ci sono profilosi però Maybelline Maybelline, Maybelline New York vabbè questo avete capito Maybelline New York ormai non lo so mi vedo un po' strano come per dire a macchina voi mi vedete a macchina quindi fatemi sapere attraverso le sezioni i commenti mi vedo un po' macchina ma non preno di essere a macchina aspettate un secondino o no secondo me anche almeno spero mi fanno essere a macchina perchè se no guarda me già e niente comunque con questo adorante mi sono data il DAF che è tenuto buone, sic sempre questo qua aspettate che ve lo piglio questo qua questo adorante che vuol da iniziare perchè è nuovo questo è nuovo, nuovissimo eh eh si top fenomenale come te andorante molto buono e molto bello strong perchè aiuta a non puzzare se non c'è la verità aiuta a non puzzare aspettate un secondo le nove le nove le nove le undici ok ancora sono a tempo a fare ci stavo con i video questo video insieme a voi dsmr perchè alle nove e mezza e dico alle nove e mezza devo mettere le gocce vabbè ci provo a accelerare i tempi ma non mettere solo una fretta allora cosa ho fatto oggi sono stata al mare mi ha creato con la mia amica educatrice ho parlato di tante cose che non sto qui a rivelare chi come per cosa e come e quanto però ho parlato di molte cose che ricordavano me e mia nonna tante volte lei mi propone di non uscire ma io a volte non vuole uscire ma io a volte non vuole uscire tante volte vuole uscire tante volte invece non vuole uscire come in questo caso io ieri mi hanno proposto di uscire di sera ma io non lo volevo sapere quindi non sono uscita vabbè niente dettagli aspettando secondo mi levo gli occhiali perchè così non mi si può vedere va bene? mi levo gli occhialetti ok? così mi si può vedere anche se senza anche se senza come si dice anche se senza trucco ma che se ne prega l'importante è avere più sorriso e bacia diciamo che si e niente e dire di bello mi stavo dicendo che non sono potuto uscire ieri notte di sera ma esco solamente i giorni quando mio padre piace a me ma questo è un dettaglio quanto sto mettendoci? 14 minuti non lo so comunque e dico già che mi è stato veramente molto bello il mare oggi è calmo rilassante molto molto rilassante e anche molto ehm limpido chiaro l'acqua pulita bella fresca anche troppo fresca ma non fa niente importante che mi ha rinfrescato mi ha allo stesso tempo rigenerato ok e niente ragazzi ehm io adesso troppo con vi saluto perchè non vorrei fare le tue le video troppo ma neanche a farvi troppo a voi piacciono le mie video smr sono queste che mi piacciono e niente quindi il prossimo sarà un video di trucco o un altro video come questo quindi che dire ehm sto bene da quando sto andando al mare da quando sto andando al mare scusate l'impabbinamento vabbè da quando sto andando al mare perchè mi rinfresco tutte le volte che voglio ah riesce 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 e niente scusate l'interruzione si credeva che mi stavo trafiantando ma non era così e niente quindi non lo so eeeh non lo so mi sa che il pezzo lo dovrò tagliare perchè voglio evitare che venga un video dove ci soglia l'attenzione mia nonna niente lo dovrò tagliare con quel pezzo ti sicuro e già per forza lo dovrò tagliare e quindi non lo so e quindi ragazzi ogni volta che vieni la mia nonna mi deve sempre fare il nervosire ottene dai quindi che dire ti sta piacendo molto con questa estate che era un po' a forza un po' rovente non ci sta perchè se non c'è un video del mio ASMR non si va a fida a me il mio video oddio mi sta crevando in calda anche adesso mi si arriva adesso un po' aspettate aspettate mi viene un po' ah che bello veramente una cosa molto curiosa aspettate ve la spruzzate ve la gelata ok perfetto siamo ok 17 minuti che registro esatto 17 minuti che registro tranquilli ho le mani pulite quella appena lavate appena le ho utilizzate con una disaffetta umidificata di umidificata umidificata unico buona persecuted forse non lo taglio vediamo per la prossima dovrò dire a interapa Quando sto registrando, ok? Niente. Sì, lo so, 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 perché oggi mi sono truccata un po', prima di andare a fare le commissioni, però abbiamo detto un pochino, prima di andare al mare a fare le commissioni. Allora, allora, allora. non fatti casa alletto che ti spanno dietro non, quello che vuoi fare non c'è nessuno che vuoi farlo adesso 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 scusate dicano che abbagano no tipo se fanno è inevitabile 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 aspetta che mi metto gli occhiali non posso vedere gli occhiali ho streggiatolo ok mancia 20 minuti scusate mancia 20 minuti aiu da u da u da i da u da yut da yut da yut da yut da yut da dett Grazie. Niente ragazze mie, allora il tempo di guardare questo video è quasi terminato ma ce ne saranno altri. Quasi ho lì per te la cucina e noi ci salutiamo con un bel dormi bene, dormi bene, dormi bene, dormi bene, dormi bene. Non so, sempre rilassati, 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 rilassati. E adesso ci si mette con la televisione differenza, la pallare했다 a morire, la roba mia è stata televisione alta. Aspettate un attimo Allora Allora ragazzi ci salutiamo Perché è bello che qui siamo in un top vulcano A salutarmi Ovvero l'ha dovuto vedere un'altra volta Io così non ce la posso fare Quindi Ciao ragazzi Alla prossima video